I prestigiosi ospiti della nuova puntata di Effetto Notte sono i tre volte premi Oscar, Dante Ferretti e Francesca lo Schiavo, che celebrano il centenario della nascita del maestro Federico Fellini con una mostra e installazione intitolata Felliniana. E poi, in anteprima il documentario acclamato in Francia che racconta Lourdes. Effetto Notte, venerdì alle 23.15 e domenica alle 22.50.